E' fissato a quota 3000 il numero massimo di persone che potranno raggiungere il comune di Cetara via mare a bordo dei traghetti in occasione della festa patronale di San Pietro che si celebra come ogni anno il 29 giugno che porterà in processione per le vie principali del paese la Statua del Santo fino all'atto conclusivo della mezzanotte con i fuochi pirotecnici sul porto che ogni anno richiama a Cetara migliaia di persone una data per la quale si presta grande attenzione che quest'anno cadrà nel fine settimana di sabato che ha riunito in prefettura Salerno il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per definire ogni dettaglio e garantire lo svolgimento della festa in sicurezza traghetti da piazza della Concordia verso Cetara dalle 18.30 alle ore 23 con la possibilità di prendere l'ultimo traghetto e restare a largo per godere i fuochi senza sbarcare a Cetara a dettagliare questa mattina ai nostri microfoni tutta l'organizzazione legata alla viabilità che porterà anche alla chiusura di un tratto della strada statale 163 da Raito a Maiori è stato il sindaco di Cetara Roberto Fortunato della Monica sarà fatto un lavoro congiunto molto importante sempre lo scopo primare di far svolgere questa meravigliosa festa con la massima sicurezza possibile stamattina abbiamo definito un po' tutto e abbiamo, si è deciso, il comitato per l'ordine pubblica e la sicurezza ha deciso che il numero massimo che posso venire a Cetara via mare è di 3.000 persone quindi dalle 18.30 ci saranno i traghetti ogni quarto d'ora e 20 minuti alla piazza della Concordia fino alle ore 23. Quest'anno abbiamo aggiunto un'ultima novità per cercare di far vedere i meravigliosi fuochi che poi quest'anno abbiamo scelto colui che ha vinto i campionati del mondo l'anno scorso quindi veramente saranno dei fuochi unici, ritengo, ma non solo i fuochi tutta la festa in sé sarà una festa molto molto bella chi viene a Cetara solo per vedere i fuochi può prendere l'ultimo traghetti che è alle 23.00-23.10 in modo che rimarranno in mezzo al mare e si corranno solo i fuochi senza che sbarcheranno a Cetara invece chi si vuole codere la festa può prendere le corse prima quindi dalle 18.30 in poi ci sono traghetti dedicate, sette traghetti che porteranno a Cetara però con un limite massimo di 3.000 persone quindi invito chi vuole venire, spero tante persone nel mio paese di prenotarsi biglietti con la Travermal che farà questo servizio perché c'è una limitazione, diciamo, quel numero che ho detto prima Imbarchi contingentati per quanto riguarda le vie del mare ma invece via Terra come si proseguirà? Quella via Terra si è decisa da pochi minuti che alle 20.30 si chiuderà la costiera Amalfitana la strada alle 163 al Bivio di Raito e a Maiori quindi alle 20.30 si chiuderà la strada e si aprirà dopo l'uno, l'uno e mezza di notte dopo i fuochi e dopo che naturalmente la gente per andare via da Cetara E per i mezzi di discorso? I mezzi di discorso abbiamo fatto un bel piano di sicurezza avrò tre autobulanze a Cetara quindi in modo che le strade saranno libere perciò abbiamo mostro queste misure ci sarà un'autobulanza via mare, quindi di rambulanti e ci sarà un medico sulla moto quindi abbiamo fatto veramente un piano di sicurezza che chi verrà a Cetara e a godersi questa festa può avvenire la massima serenità in tutti i sensi a un punto di vista di sicurezza in tutti i sensi sia in punto di vista di sicurezza fisica ma soprattutto sanitaria eccetera eccetera